Quando ti sei difeso dal mio sero, hai evocato quella maschera in un lampo, giusto? Un tempo di reazione formidabile. Tuttavia, questa volta si è infranta subito. Suppongo non potrai più rifarlo. Arrenditi. Chi è che dovrebbe arrendersi? Tu sei le spada numero uno, non è così? Per cui se adesso io riesco a sconfiggerti sarà come se questa battaglia fosse già vinta. Capisco. Beh, sfortunatamente per te. E' il numero quattro. Esatto. Sono il quarto e spada, Ulchiorra Shifer. Come puoi immaginare a livello di forza io, sono solo il quarto. Curuzaki Ichigo. Non pensare di potermi sconfiggere. E qualora ne fossi in grado, esistono altri tre spada più potenti di me. Puoi provarci anche mille volte. Ma sul cammino davanti a voi non c'è vittoria. Onestamente, temo di averti davvero sopravvalutato. I tuoi miglioramenti non hanno raggiunto le mie aspettative su di te. Per te è finita. Se riesci ancora a poterti muovere, ti consiglio di andartene seduta stante. Altrimenti, muori lì dove sei. In ogni caso il tuo cammino è giunto al termine, Shinigami. In ogni caso il tuo cammino è giusto.